Ciao a tutti, oggi vi mostro come preparare dei straccetti di pollo con limone e curcuma, facilissimi, gli ingredienti sono Dopo aver infarinato i miei straccetti, riscaldo dell'olio in una padella, non appena sarà tipido posso andare a mettere su gli straccetti Io l'ho infarinato con una farina di riso, voi potete utilizzare la farina 00 Amalgamo bene il tutto, dopo qualche minutino posso andare a grattugiare dello zenzero fresco Aggiungo il succo di mezzo limone e del rosmarino fresco Copro e lascio cuocere per un paio di minuti Dopo 4-5 minuti, comunque quasi a fine cottura, aggiungo sale e un cucchiaino o un cucchiaino e mezzo di curcuma Amalgamo bene il tutto Guardate che bel colore che stanno prendendo i miei straccetti Copro e lascio cuocere per un altro paio di minuti E voilà, i miei straccetti con curcuma e limone sono pronti Infine ho spolverato anche un altro po' di zenzero fresco grattugiato E niente ragazzi, spero che questa ricetta semplicissima vi sia piaciuta Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video Ciao! Ciao!